Un'automazione industriale efficiente si basa su dispositivi funzionanti e configurati. Ma se qualcosa va storto, arriva la chiamata. Si fanno i bagagli, si sale su un aereo, si fa il check-in e si disfano i bagagli. Poi, finalmente, si comincia a lavorare. In altre parole, un sacco di tempo, soldi e chilometri sprecati per risolvere il problema. Esiste una strada migliore? Sì! Noi la chiamiamo M-Guard Secure Cloud di Phoenix Contact. Un servizio gratuito che consente di connettersi e risolvere i problemi a distanza e in pochi clic. Una volta divenuti utenti M-Guard Secure Cloud, in caso di malfunzionamento di una macchina in qualsiasi luogo, potrete riparare il dispositivo industriale a distanza e in modo sicuro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque vi troviate. Se da un lato la capacità di risolvere il malfunzionamento dell'impianto da remoto è ormai avanti anni luce rispetto ai vecchi tempi delle trasmissioni via modem, dall'altro la realtà del mondo attuale incentrata sulla sicurezza ha moltiplicato i fattori di rischio, i costi e le complessità legati all'assistenza remota ad alta velocità via Internet. M-Guard Secure Cloud di Phoenix Contact permette di ridurre i costi di manutenzione per gli impianti industriali, nonché di ridurre drasticamente i tempi e i costi di viaggio connessi a queste attività, per la gioia di tutti i tuoi clienti. Il cloud è la soluzione semplice, efficace e altamente sicura per accedere a distanza agli impianti industriali dei vostri clienti. Mediante questo portale sicuro è possibile accedere a un percorso criptato che vi permetterà di effettuare un controllo virtuale concreto sulle attrezzature industriali dei vostri clienti. Una volta stabilita la connessione M-Guard Secure Cloud è sufficiente effettuare il login per ottenere l'accesso immediato alle macchine del sito in cui si è verificato il problema, scorrere l'elenco dei dispositivi, selezionare e avviare una connessione dati con l'apparecchiatura interessata. Questo servizio bypassa completamente gli indirizzi IP pubblici e le porte firewall aperte. Grazie a M-Guard Secure Cloud, in qualsiasi parte del mondo siate, potete ora programmare e risolvere i problemi di qualsiasi dispositivo, proprio come se foste sul posto. Utilizzando M-Guard Secure Cloud, eviterete inutili spostamenti e perdite di tempo e potrete controllare virtualmente qualsiasi dispositivo, proprio come se lo aveste tra le mani. Il Cloud elabora e trasferisce i dati criptati in arrivo verso la propria destinazione. La facilità d'impiego di M-Guard Secure Cloud consente a centinaia di ingegneri e tecnici di controllare a distanza gli impianti, individuando e risolvendo problemi complessi, configurando e aggiornando i programmi, monitorando lo status, impostando notifiche di avviso e controllando sequenze di attività. Per una soluzione veloce, libera e flessibile, in grado di ridurre i tempi di inattività, i costi e gli spostamenti, richiedete M-Guard Secure Cloud, la nuova generazione per la teleassistenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito phoenixcontact.it, M-Guard Italia underscore it chiocciola phoenixcontact.com oppure registrati su it.cloud.mguard.com Grazie a tutti.